Ciao, benvenuti a Spigolo, sono Pino, sono il chef del restaurant e oggi abbiamo fatto calamari con breadcrumbs, cheese e capers e abbiamo detto che il tuo cuore sarà il tuo piacere. Sì, tu respiri un'aria nuova che ti dà l'emozione di una dolce immensità e ti accorgi che cammini e non sei più da solo, guardati accanto, siete in gru e adesso in volo. Sì, tu sei arrivato dove vuoi, dove non credevi mai. Una volta nella vita sai ti capita che tu non vorresti avere neanche un po' di più. Però così vivo, tu non sei stato mai, stringi più forte quello che tu hai.